Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove ci sono rallentamenti per lavori tra Pisa Nord-Est e Cascina in direzione Firenze e tra la diramazione per Pisa e Navacchio in direzione Pisa. In A1 guidare con prudenza per la nebbia a banchi tra Roncobilaccio e Aglio. In A11 attenzione al personale sulla strada per lavori tra l'allacciamento con la 12 a Pisa e Lucca in direzione Firenze. Sull'accordo a Siena-Firenze in direzione Siena per lavori scambio di carreggiata tra Bargino e Tavarnelle e chiusura dello svincolo di Tavarnelle sempre verso Siena. Scambio di carreggiata per lavori tra Poggibonsi e Sandonato verso Firenze. Per quanto riguarda le statali sulla Aurelia chiusura di una corsia per lavori tra Follonica Est e Follonica Nord in direzione Nord. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!